Un caro saluto da Diego Fusaro, un caro saluto a tutti. Non si danno pace gli araldi del pensiero unico politicamente corretto, i padroni del discorso, i professionisti della parola, al cospetto del trionfo di Marine Le Pen. Ad esempio sulla stampa di Torino, quotidiano sabaudo par excellence, esce un podcast della giornalista Cuzzocrea in cui si parla della maschera della Le Pen. Secondo detto podcast, la Le Pen si presenta come democratica, ma in realtà è il vecchio fascismo che ritorna mascherato, l'arvatus prodeo per dirla con Cartesio. Ora si tratta di tesi francamente surreali, buone solo a mantenere in vita l'eterno antifascismo in assenza di fascismo, per delegittimare ovviamente l'avversario, in questo caso la Le Pen, sul quale devo dire la verità non nutro grandi speranze, data la sua posizione assolutamente pro israeliana. E comunque fa sorridere vedere i professionisti del discorso che si sforzano di smascherare la Le Pen e poi accettano supinamente Macron che invece procede senza maschera, rappresentando al meglio il liberismo estremo e l'imperialismo estremo. Non si capisce davvero perché la Le Pen dovrebbe essere più pericolosa di Macron. Può ben essere che anche la Le Pen sia pericolosa, ma difficilmente sembra di poter riconoscere che ella sia più pericolosa di Macron, il quale difende estremamente il mercato sovrano e addirittura propugna la guerra imperialistica a tal punto da proporre, come ha fatto l'invio di truppe in Ucraina. Perché di grazia la Le Pen dovrebbe essere più pericolosa di Macron?